Inter batte PSG 2 a 1 la rete di vitigna succede tutto nel secondo tempo e poi in due minuti l'Inter la ribalta Esposito e Sensi l'Inter quindi vince questa seconda amichevole giapponese la quarta amichevole estiva per la squadra di Simone Inzaghi in piena preparazione una partita in cui Simo le gambe erano abbastanza pesanti si vedeva che l'Inter ha fatto un lavoro anche fisico molto molto importante e quindi un po' la prestazione a livello di brillantezza ne ha risentito una partita dove il PSG con tanto possesso palla si vede molto la mano di Luis Enrique in molti momenti è stata anche una partita abbastanza soporifera poi però nel secondo tempo quando cominciano i cambi quando l'Inter diventa anche più verticale sia per gli interpreti che per lo stile di gioco e mette in campo tanta qualità a livello di giocatori in campo riesce a ribaltarla e devo dire anche meritatamente Simo perché in realtà sapevamo di affrontare il PSG si vede che ha tanti calciatori di alto livello si vede ovviamente che è una squadra costruita anche per obiettivi estremamente ambiziosi però io ricordo ecco un palo colpito da Sensio il gol di Vitigna che nasce da un nostro errore in disimpegno su una palla persa persa male lì a centro campo per il resto tanto possesso palla sterile l'Inter si è difesa con ordine e a parte i primi 20 minuti di difficoltà mi è sembrata di vedere un Inter credibile di buon livello e che non ha sicuramente sfigurato anzi ha rinunciato in alcuni momenti al possesso palla con una squadra che palleggia molto bene che di giocatori che palleggiano ne ha tanti quindi forse soprattutto nelle fasi in cui potevamo giocare più costruendo più con il nostro stile di gioco classico siamo risultati un pochino sterili davanti anche perché anche noi non è che abbiamo creato tantissime occasioni da gol però poi come dicevo con la partita che si apre un pochino i cambi loro comunque hanno lasciato dentro tanti giocatori come Achimi come Skriniar come Donna Rumma Vitigna stesso sono rimasti tanti titolari in campo hanno una settimana di lavoro in più visto che inizieranno il campionato una settimana prima rispetto a noi e questo inevitabilmente va detto però diciamo che nel finale soprattutto nelle ripartenze molto bene l'ingresso di Frattesi molto bene l'ingresso anche di Quadrado di Sensi tante buone indicazioni di una partita che però ancora ecco non è stata proprio entusiasmante al massimo no esatto non lo è stata ma non era nemmeno quello che ci saremmo aspettati o che avremmo dovuto richiedere nonostante alcuni commentatori già spazientiti all'1 di agosto della stagione che speriamo possano cambiare un po' idea più che altro per loro stessi non tanto per l'Inter per il resto alla fine io mi prendo le note positive anche di alcuni singoli su cui dopo magari andiamo e continuo a notare un Inter che come dico da tempo ha un modo di giocare molto moderno molto europeo molto bello anche da vedere la scorsa stagione ci ha dimostrato che con i nostri limiti abbiamo però delle qualità e dei picchi di gioco che riusciamo ad applicare in ogni partita ci hanno portato in finale di Champions e in un paio di situazioni a farlo anche in finale di Champions quindi questo mi pare un segnale importante era importante alzare la qualità di alcuni interpreti nei titolari soprattutto di allungare la qualità degli interpreti in panchina finora mancano ancora dei tasselli però lo stiamo facendo la dimostrazione più evidente è il centrocampo laddove entrano dalla panchina giocatori migliori rispetto all'anno scorso aspettiamo Samaric che probabilmente prenderà il posto di Sensi però comunque delle cose si notano anche sugli esterni poi tra le altre cose perché comunque Quadrado e GoSense sono due ottime riserve in questo senso ecco a tal proposito Sivon non mi concentrerei tanto sulle dinamiche di gioco andrei più che altro con diciamo delle indicazioni sparse che abbiamo raccolto da questa partita te ne butto io tre poi ne voglio sapere tre da te vediamo costruiamo un po' insieme quello che abbiamo visto in questa gara allora ho visto un Inter soprattutto all'inizio sono state fatte chiaramente delle prove di gioco di ciò che vedremo contro il Monza a livello sia di formazione che di stile di gioco mi ha incuriosito molto intanto un Turam che secondo me ancora oggi inevitabilmente credo che sarà giudicato da molti in quanto numero nove dal quale ci si aspetta che diventi il finalizzatore sarà giudicato per il fatto che non ha calciato in porta e non ha ancora finalizzato quindi sicuramente leggeremo delle critiche personalmente però studiando il percorso di crescita e di integrazione che sta facendo in quest'Inter mi è sembrato di vedergli fare un passo in avanti rispetto alle altre due partite e quindi non non mi è dispiaciuto sinceramente mi ha fatto vedere cose interessanti dal punto di vista della gestione del pallone e dell'occupare lo spazio con un Lautaro Martinez che sicuramente è venuto molto più a giocare e ad eccezione di quell'errore che ha portato al gol del PSG mi è sembrato il giocatore un pochino più nel vivo della manovra molto spesso abbiamo visto poi che Dumfries andava ad inserirsi come attaccante aggiunto cioè negli spazi liberati da Lautaro e da Turam si andava a buttare molto spesso Dumfries che però è stato un po' il tappo poi conclusivo della manovra offensiva dell'Inter e ne abbiamo risentito negativamente in fase di finalizzazione ti aggiungo poi mi ha molto bene impressionato Filip Stankovic sul gol purtroppo subisce un euro goal da Vitigna c'era poco da fare buona personalità soprattutto con i piedi penso non abbia sbagliato nemmeno un passaggio li ha giocati tutti con grande personalità sia sul corto che sul lungo quindi bravissimo davvero Filip Stankovic anche in questa prova si candida anche lui ad accendere sempre più la discussione ma perché non tenerlo come secondo ma ne abbiamo parlato più più volte e questa è la prima indicazione dimmi un po' la tua concordo su tutto questo poi sul discorso Stankovic ne abbiamo parlato appunto anche in diretta con i piedi mi pare che anche il confronto con Donnarumma sia già evidente nel senso che Donnarumma con i piedi mette un po' i brividi mentre Stankovic mi ha sorpreso positivamente su Turam concordo col tuo giudizio dico anche insomma il calcio di oggi ci dimostra esattamente come per i portieri che non devono solo parare ma devono anche giocare palla a terra gli attaccanti non devono solo fare gol ma devono sapere fare anche dall'accordo Turam deve lavorare molto però secondo me ha nelle corde le caratteristiche per essere un giocatore molto utile non lo è ancora non lo è ancora al 100% ma lo diventerà io ci aggiungo come ottima impressione anche quella di Frattesi che dopo essere entrato bene anche contro la Lazare è entrato benissimo anche oggi a parte che ha fatto due assist ma comunque lo si vede che è proprio mi sembra proprio nella squadra ideale come lui stesso già diceva prima di venire all'Inter già bene integrato molto utile sugli esterni vedevo anche in chat e molti dicevano Quadrado diventerà titolare ci sono delle buone possibilità oggi è una riserva perché comunque Inzaghi titolare fa partire Dumfries quindi è una questione proprio fattuale dal punto di vista tecnico e a me sembra che Quadrado non duri molto come riserva visto appunto l'apporto che può dare e credo possa aiutare anche Gosens come già dicevo qualora dovesse rimanere poi paradossalmente anche quando è entrato Esposito l'attacco secondo me si è un po' rinvigorito forse Lautaro era un pochino stanco lo stesso Correa quando ha giocato con Lautaro per me ha fatto malino quando è entrato Esposito in un paio di situazioni è riuscito a trovare un po' più di spazio questo non significa che Esposito sia appunto il nuovo da confermare però vedi anche il fatto che qualcuno dice ma perché non teniamo Esposito quarta punta oppure perché non teniamo Sensi sesto centrocampista vuol dire da una parte che anche le riserve dell'Inter riserve inteso anche come giocatori che dovrebbero salutare sono di buon livello dall'altra vuol dire che anche il gioco dell'Inter riesce a valorizzarne tanti perché insomma bene o male diciamo un buon 90% di chi scende in campo oggi il suo lo fa ci sono un paio di eccezioni negative ma per il resto funziona abbastanza bene tutto sì 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 no Esposito vabbè un giocatore secondo me che dal punto di vista tecnico non lo discute nessuno i colpi li ha, ha fatto bene ha giocato in fiducia, mi è piaciuto sono rimasto molto colpito soprattutto da Frattesi però come stavo leggendo anche in chat al momento tra i nuovi arrivati sembra quello già più in palla già più dentro l'Inter, più integrato quindi è un'indicazione molto importante Quadrado poi c'è stata un'azione in cui con tutto il rispetto però l'hai visto gli servi palla uno contro uno l'hai lasciato isolato contro l'avversario comunque salta secco Kurzaguà tiro sul primo palo conquista un calcio d'angolo su un'azione che sembrava praticamente conclusa e andata quindi bene così altre indicazioni che possiamo cogliere Simo? mi sembra più o meno per la partita di oggi abbiamo detto un po' tutto sì, se vuoi come disposizione tattica il fatto che quando è entrato Bissek non è andato a fare il braccetto sinistro ma c'è andato Darmian è un po' controintuitiva come cosa mentre lui è rimasto a destra e basta poi è entrato Aslani, ha fatto il regista anche abbastanza bene sarà curioso capire appunto a livello difensivo sì, e la conferma anche di Barella che va a sinistra cioè quando entra Fratesi Barella viene spostato sempre a sinistra c'è stato poi anche questo gioco delle coppie sugli esterni cioè anche questa volta si confermano in campo Dumfries con Di Marco e Gosens con Quadrato quindi uno più fisico e uno più tecnico per ora Inzaghi li sta sempre alternando in questo modo vedremo se sarà una tendenza così quello che dicevi sul difensore è giustissimo nel senso che stavamo dicendo se schieri di nuovo Bissek a destra e pur di schierare Bissek a destra mandi Darmian a sinistra forse, cioè non lo so o stai testando Bissek o oggi magari volevi comunque vincere questa partita quindi non volevi rischiare stabili a sinistra o lanciare di Bissek di là non lo so però le partite con Bissek a destra ormai sono state tutte in quella zona di campo lì lo stai testando sempre lì al livello di priorità del mercato forse al momento manca più qualcosa a sinistra e quindi qualche piccolo dubbio su queste manovre in questo momento rimane e detto questo leggendo anche un paio di commenti Wewe dice bello tutto ma anche oggi si è visto come manca una prima punta di peso questo è un po' il tema che rimane anche dall'anno scorso Simo, chiudiamo un po' così nel senso che si vede che comunque nella manovra, nel gioco è un Inter che ha bisogno di produrre tanto o comunque che ha bisogno di essere in palla e di girare bene per poter andare al gol per poter segnare e per poter fare tanto peso in area di rigore è normale quindi secondo me che in questo momento in cui siamo ancora un po' imballati con le gambe pesanti siamo stati un pochino sterili davanti soprattutto nella prima parte di gara allo stesso tempo dobbiamo prevedere questa cosa per la prosecuzione della stadione ci saranno momenti in cui magari non gireremo a 2000 e qualcuno che ti toglie un po' le castagne dal fuoco che ti fa più presenza in area di rigore serve stanno puntando su scamacca a livello di mercato da quello che emerge in queste ore non è il nome magari che ti infiamma più di tutti però è una scelta che può essere sensata anche per questo tipo di esigenza sì ti copre una parte della lacuna secondo me come una parte te la coprono tutti i nomi che vengono fatti tutti i nomi che non scaldano credo quasi nessuno al punto tale diciamo da dover esultare o cose simili e tutti i nomi che sono parzialmente utili non totalmente scamacca ti copre la lacuna appunto della presenza in area di rigore anche un po' della fisicità nemmeno lui diciamo che è un bomber implacabile anche se devo dire che mi sono un po' ricreduto andando a vedere i suoi numeri anche per esempio nella scorsa stagione dove ha giocato poco e male anche a causa dell'infortunio alla fine si è fatto i suoi otto gol che non sono tantissimi ma se non sbaglio se noi sommiamo insieme tutti i minuti avrebbe giocato qualcosa come 15 partite complessive da 90 minuti e quindi otto gol non sono comunque pochi il mio nome l'ho già detto mille volte non lo rifaccio anche perché non è mai stata una trattativa effettiva da quello che si è capito il buon Taremi e quindi vediamo se arriva Scamacca comunque può integrarsi bene ecco ripeto in una squadra che funziona in un calcio propositivo chiunque può integrarsi bene quindi perché non Scamacca ecco vedremo vedremo poi faremo un approfondimento a parte su Scamacca quindi vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervelo nel frattempo però l'Inter batte PSG 2 a 1 il risultato finale Sensi Esposito ribalta in due minuti la rete di Vitigna un PSG comunque più avanti con la preparazione pieno di giocatori super costosi vinciamo noi prendiamoci questa nota positiva e godiamoci questa vittoria prossima amichevole il 9 agosto con il Salisburgo alle ore 19 la seguiremo ovviamente in diretta qui sui nostri canali iscrizione al canale mi raccomando e vi ricordo di fare un salto su www.passioneinter.club se volete supportare il nostro progetto se vi va di sostenere Passione Inter mi raccomando iscrivetevi al club di Passione Inter Grazie a tutti Grazie a tutti